ciao a tutti i ragazzi bentornati su spartan sul tubo e sul canale di hidevote che vi invito ad andare a salutare ti ammazzo sarò in alto il saluto importantissimo ciao a tutti i ragazzi bentornati sul mio canale benvenuti su questo colore va bene sì scusate stiamo giocando ma è l'una e 10 dalle 10 che sono in qua fisso che mi avevano detto venite vieni spartan alle 10 a registrare e io alle 9 un quarto ero già qua davanti loro sono arrivati a mezzogiorno ai 10 è stato veramente traumatico i ragazzi di oggi c'è proprio più da fidarsi sono arrivato io in ritardo in realtà ma vabbè andiamo avanti con le nostre registrazioni abbiamo un'altra custom map di cui non sappiamo nulla casa cinese è crasciato ma sarei tu crasciato io vedo cervelli a me è crasciato no sono io ah ecco tu hai crasciato e sono io con lo asmo ok hai crasciato solo tu sincero io sto andando avanti davvero io visco qua ragazzi e poi vado a mangiare ok ok ci chiama vuole registrare dopo 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 domani dopo prima di domani c'è gareth frost che mi insegue mi spara addosso cattivo oh ma cos'è sta roba l'ultimo degli sfigati non l'ultimo degli spartan ah ora ci divertiamo ma vaffanculo ora che ho preso il coso ah ma c'è uno che prende il coso ma come funziona sto gioco scusate qualcuno me lo spiega io mi nascondo io mi nascondo non lo so dai come funziona dai come funziona dal vostro cattivo dal vostro cattivo mamma mia che laghe supremo le prossime le state voi no no ma vaffanculo cosa c'è c'ho 3 milioni di mega di che no 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 non ti devi buttare per aria non ti devi buttare per aria ma sono invincibile no sono un idiota che schifo sta roba ma schifo ti devi nascondere bene vi di com'è vi di com'è fatto arrivo aspetta scusa dove sei ne ho già visto uno perfetto e voi correte in casa ma non c'è un modo di reagire cioè qual'è lo scopo scappa dall'aereo che ti spara si e basta ma come fai i punti durando di più cosa no ho sbagliato no no ho sbagliato di nuovo c'era un master mamma mia master chief accanto a me signor chief è tutta la vita che volevo conoscerla ha cambiato armatura signor chief sono una donna oddio io me ne vado sono spaventato oh guarda 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 qua ma scusi ah eccola l'ho vista non la vedo più mamma mia la tristezza della mappa dove sei eh uccellino dove sei ma te il pianto sei scarso vabbè basta è un video dobbiamo intrattenere quindi io mi butto d'ignoranza ok ho capito dov'è ma saliamo sul sul su 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 e benissimo eh no così non sa dove saliamo ok forse lo so rientrate in casa amici miei rientrate in casa un minuto ho rimasto infatto eliminato ahahahahah vabbè io come faccio a prendervi non passano proprio i colpi no ho rotto il panticello perchè io non posso prenderlo perchè io non posso prenderlo è illegale non vale non vale io non posso prenderlo quello vaffanculo ti avrei ucciso io vaffanculo non vale scusa io lo prendevo ora lo prendo sto arrivando mamma mia eh 10 6 no non ho nessuno guarda ho visto cosa della mappa sarà stata la fatina buona del cazzo come due punti ma perchè io ho due punti perchè ho due punti son durato come due punti lo vedo lo vedo io ho due punti lo vedo oddio, l'ha visto, l'ha visto va! e sono riuscito alla tua scoperta non farmi ammazzare tanto Garrett si mette sempre al certo punto dov'è? dai di me sugli alberelli si mette ops ho visto qualcosa ehm ma chi sta sparando è di preciso la 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 non lo so dice che sono sugli alberi dove cazzo si ma remma buona se vi ammazzo le persone si perezze un minuto eeeh la figa ma io vedo gareth che continua a correre lo odio visto visto di nuovo lì che sta accendendo le sigale occhio a gareth e vanno a vincere e vanno a vincere eccezionale eccezionale quanto schifo in sta battaglia hai capito ecco godo mamma mia il disastro ma come fai a fare 7 punti 7 punti ma bucaiola mamma mia lo schifo che schifo vai a mangiare chi è che va a mangiare airmail dei voidi noi registriamo ancora una battaglia qualcosa di divertente per favore possibilmente ah ma ce l'ha solo lui quindi usciamo no mi promuovo caposquadro eh promuovimi io ma non abbiamo le mappe noi no andiamo su una sparatoria normale faccio io no mi è impostata la mappa comunque ah possiamo fare questa ma qual'è questa è sempre la stessa no 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 ah ok allora faccio via e avviamo ma vero ci sentiamo dove la facciamo ciao ciao ai 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 si anche io credo che dopo questa mia madre comincerà a urlare MARIA vieni a mangiare eccolo eccolo arrivo donna oddio cos'è no il mosquito c'è il mosquito oddio voi sapete sempre ma cos'è sta roba E va bene, lì si distruggono E grazie Io cosa devo fare? Salire sul wasp Non mi fa salire No, ma io no Mi fa salire a me A me non mi fa prendere l'arma Vabbè, è semplice vincere così Ma non so cosa ho fatto Cosa ho fatto? Perché io sono figo Ma non fa salire sul wasp Non fa salire Ma non mi faceva neanche prendere le armi Poco baggato Cosa faccio? Esci dalla partita, concludi Sì, concludi Perché se no Continuiamo a morire le bar Concludi Ok, primo Ho vinto, scusate Oh, idea Quanto è punto? Facciamo una SWAT? Ma no No, facciamo infezione Facciamo infezione Odio infezione Odio infezione Facciamo qualcos'altro Ah no? Ah, non ti interessa? Ok, grifball Grifball infezione Dai, grifball Infezione 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 Lo sai chi comanda? Infezione Infezione Ops, comando io Dai ragazzi Noi siamo un'ottima squadra Dai Però poi col cazzo Poi io questi video Li passo tutti a Devote Li fa lui Tutti i tagli del caso Vaffanculo Eh, che cazzo No, no Scherzo Li faccio io Minchia Sarà un disastro Vorrei passare ore E ore E ore E ore E ore E ore A tagliare Oppure le metto così Che se ne fredda Sìììì Scelta migliore Ce la facciamo a trovare una partita O facciamo finta Dai cazzo Perché è partito il mio video Ciao a tutti ragazzi Bentornati sul mio canale Sono Spartan sul tube Siamo di nuovo bentornati Oh sei arrivato a 70 ispettio A 70 sono? Mamma mia S'è scritto Gareth con la canto fal Senti facciamo un attimo così Abbandoniamo il mash making Perché qua non parla Cos'è l'azione sfrenata? Babbo Natale ha una borsa nuova fiammante Cos'è l'azione sfrenata? Tutte le cose che mi mette Una alla volta Infezione Sono delle custom map che vanno messo i giocatori Facciamo SWOT No Sì 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 No SWOT è questione di abilità ragazzo Non sei abbastanza bravo eh Con il DMR In realtà no Devi perfezionarti allora Puoi avere da fuggire da battaglia La pistola è di merda Quindi Ecco Questa mappa di merda Pichiamolo Sì lo pichiamo Andiamo nell'altra squadra e lo pichiamo Ma io devo farmare Eh posso vero Eccolo Eccolo Oh oh Dai cazza dai Che bello il pavimento della mappa Eccoci qua Perché è scherzo? Scusa? Perché è scherzo? Perché è scherzo? No, come l'alimentazione della tele si spegnerà Oh, Dian Chi è che non c'è un po' di te? Qua, qua, qua da me Mi hai rubato la kill Mi hai rubato la kill Ma io non so mezza arma, raga Eh, anch'io c'ho la pistola Ok, ma te posso capire perché tentarti Se non porto me a me non puoi essere a pensarmi Eh, vaffanculo, sto facendo pena Ti stiamo anche vincendo Devi essere forte e puoi giocare solo Hai ragione, ma sta mappa non l'ho mai fatta Ma non spavano armi a questa pistola No Ambulanza, grazie Grazie Voleva farmi il backstack l'ho ucciso Ahahahah Eh, vabbè Fottiti Ok, shottato Shottato Grazie per avermi lo quattro Shottato Fanculo Ci riprendiamo un attimo Eh, vabbè Non va giù Non va giù Mi sono succidato però l'ho ucciso Ahahahah Ma dai No Merda Eh, mi ha distratto Allora Occhio Eh, ce n'avevi uno alle spalle Due Eh, ho visto, ce n'avevi uno alle spalle Tre Tre alle spalle Vedi la madonna Tre Sì, sono arrivati uno Oh, occhio dietro Occhio ovunque No, stai, sono sparati in testa Merda, eh, io no Dov'è, dov'è Me l'ho proprio mancato pesante Sì, vabbè Ma sticò a fare una Guarda, mi hai fatto sparato tre colpi Cosa ci stava quello? No, sono caduto di sotto Ma quanto sono coglione Vabbè Hai perso Sparo una raffica, questi Sì, hai visto? Mi chiedi di raffa Occhio a su Minchia, ma come cazzo ha fatto a prendermi? Vabbè Mi sembra un po' strano Non c'è quello lì che spara raffica Spara raffica Spara raffica Sì, ho visto io a sparare come Una pistolina sul colo Voglio vedere Spara raffica Come fa a sparare la raffica? Oh, no, no Ha sparato Che ho visto Che giocoglioni Che giocoglioni Che giocare contro sta gente Bella, bravo Grande Garrett No, vabbè No, mi ha sciottato da dietro Sì, vabbè Dai, sti qua Sì, vabbè Quello lì Col coso nero È... Boh Di Adamantio Occhio, spalle nostre Tutte spalle nostre Occhio Sì, ne arrivo uno da sopra Uno da destra Uno da sinistra Uno da dietro Vabbè Ma non è possibile Raga, non vediamo Non è tutto Raga, stiamo perdendo No, ho sciottato Un culo Minchia Non c'ho le spalle Guarda, guarda Ma la spanna raffica Sì, l'ha camperato Su No, dai Raga, mi fanno spawn Un kill No, no, attento Mette lì Eh, vabbè Eh, vabbè Eh, vabbè Eh, vabbè Eh, vabbè Eh, vabbè Ah, no, no, l'almoniero Eh, sono tutti Di pari colori strani Mamma mia Il disagio Morto 15 volte Mamma mia Bene ragazzi Devo andare a mangiare Direi che per questo video è tutto Noi ci vediamo al prossimo Ciao A tutti